L'Eral Tribune rende onore all'Aglianico, un grande vino italiano ingiustamente trascurato, scrive il quotidiano. L'Aglianico, un vino meraviglioso, spesso trascurato, parola del prestigioso quotidiano internazionale, Eral Tribune, Anna Scafuri. Aristocratico vino italiano da invecchiamento, l'Aglianico è troppo spesso trascurato, scrive l'Eral Tribune. La sua fama presso i consumatori è ingiustamente oscurata da nomi più familiari come Chianti, Barolo e Valpolicella. L'articolo dà conto di una degustazione di 25 etichette di Aglianico che hanno suscitato i commenti molto lusinghieri degli esperti, sorpresi dall'alto livello di qualità riscontrato, dalla potenza e dall'equilibrio di questo vino. Crediamo tantissimo in questo vitigno che probabilmente è prima storico che è autoctono. Questo è uno dei motivi per cui da sempre in quest'area si cerca di migliorare la lavorazione di questo vitigno. Questo antichissimo vitigno autoctono predomina nella zona del Vulture e nella provincia di Benevento, alle pendici del Monte Taburno. Il Taurasi è tra le più importanti DOCG del sud. L'impegno dei produttori e la ricerca universitaria sono stati determinanti nel rilancio di questo vino che conquista ora prepotentemente la ribalta internazionale. Carattere, anima e longevità. Carattere perché rispecchia un po' anche l'espressione del nostro territorio e della nostra gente. Carattere forte, duro e anche un po' scontroso. Carattere, anima e longevità.